in questo video parlo dei fiumi ho già fatto altri video sui fiumi in esterno con questo video voglio fare un po una sintesi sul fiume utilizzando come base il wikibooks scienze della terra per le superiori i fiumi come definizione possiamo dire che il fiume è un corso d'acqua perenne quindi dovrebbe contenere sempre acqua salvo rare eccezioni vediamo come si forma un fiume si può formare in vari modi l'acqua diciamo che contiene il fiume può derivare dalla pioggia quando la pioggia scorre in superficie e arriva direttamente direttamente al fiume si parla di acque selvagge altrimenti arriva l'acqua della pioggia arriva al fiume tramite i suoi affluenti se l'acqua del fiume dipende prevalentemente dalle piogge si dice che c'è un regime che il fiume ha un regime pluviale quindi la portata del fiume dipende dalla dall'andamento delle piogge in sostanza un fiume può avere acqua diciamo può raccogliere l'acqua di fusione della neve e se questa è l'acqua che prevale si dice che il regime nivale si può anche fare delle combinazioni per esempio se un fiume raccoglio principalmente acqua di pioggia e neve si dice che ha un regime nivo pluviale o pluvio nivale ci sono fiumi che raccolgono l'acqua dei ghiacciai o prevalentemente dei ghiacciai allora si parlerà di regime glaciale anche qua si possono fare delle combinazioni quindi avere fiumi nivo glaciali o glacio nivali ok e infine un fiume può raccogliere acqua che sgorga da una sorgente o da più sorgenti la sorgente si forma quando la falda acquifera praticamente arriva sulla superficie incontra la superficie quindi esce dal suolo e in qualche modo origina un corso d'acqua e spesso diciamo i fiumi almeno i fiumi importanti hanno più contributi quindi possono avere uno o più sorgenti possono raccogliere l'acqua di fusione della neve e della pioggia alcuni possono essere alimentati dai ghiacciai vediamo qualche esempio questa è un'immagine che mostra la pioggia quindi questa pioggia ruscellerà sul terreno come acque selvagge e si raccoglierà nel corso d'acqua la neve di quando nella stagione calda questa neve si scioglierà almeno in parte andrà ad alimentare il fiume in questa immagine si vede qua sulla in fondo alla foto c'è una lingua glaciale quindi la parte terminale di un ghiacciaio si vedono anche le morene di detriti questa lingua di sabbia grigia e questa acqua di questo torrente è acqua di fusione del ghiacciaio per cui in questo caso il fiume diciamo ha un carattere torrentizio per cui l'acqua scorre con una certa energia magari una certa variabilità e quindi può dare origine a un fiume anche questo è un ghiacciaio sul ghiacciaio spesso si formano dei ruscelletti di acqua di fusione sopra o sotto qua si vedono delle persone che camminano per cui questo fa capire che questa non è neve sporca ma è proprio ghiaccio e questo è un'acqua che sgorga dalle rocce quindi si tratta di una sorgente e qui in basso diciamo si darà origine a un corso d'acqua un fiume andiamo a vedere qual è la struttura di un fiume i principali elementi sono l'albio detto anche il letto del fiume che la superficie dove scorre l'acqua poi abbiamo gli argini o le sponde sono le strutture che delimitano da una parte dall'altra il fiume quindi abbiamo il bacino idrografico che è un'area che l'area quindi si misura in chilometri quadrati l'area che raccoglie tutta l'acqua che finirà nel fiume per esempio il po ha un bacino idrografico di 70 mila chilometri quadrati circa il piave ne ha 4 mila il rio dell'amazzine ne ha 7 milioni di chilometri quadrati quindi per questo capiamo che il rio dell'amazzine è un fiume molto grande molto che ha una portata d'acqua considerevole il reticolo idrografico è l'insieme diciamo del fiume di tutti i suoi effluenti proprio la rete idrica del fiume con i suoi effluenti l'affluente è un corso d'acqua che si getta nel fiume principale poi possiamo avere gli effluenti di primo grado secondo grado cioè l'affluente dell'affluente eccetera la foce è la parte terminale del fiume il fiume può terminare nel mare oppure può terminare in un altro fiume oppure in un lago e la foce può essere a delta o a estuario e vedremo più avanti un po la differenza tra questi due tipi di foce vediamo qualche esempio questa è la superficie dove scorre l'acqua quindi questo è un esempio di letto del fiume questo è l'arno qua si vede diciamo sotto quest'acqua ci sarà il letto e ai fianchi ci sono gli argini o le sponde del fiume ecco questo è un esempio di bacino idrografico questo mostra appunto il fiume principale al centro con tutti i suoi effluenti di primo secondo terzo grado e tutta questa rete di affluenti assieme al corso principale viene chiamato reticolo idrografico se invece considero l'area delimitata dalla linea tratteggiata rossa l'area che raccoglie l'acqua che finirà anche attraverso i suoi effluenti nel corso d'acqua allora sto parlando di bacino idrografico quindi reticolo insieme del fiume dei suoi effluenti bacino l'area che raccoglie l'acqua che finirà nel fiume questa linea che in qualche modo delimita il bacino idrografico da altri bacini che si troveranno qui all'esterno qui non sono disegnati si chiama linea di sparti acque questo nome fa capire proprio è che è la zona dove l'acqua diciamo viene divisa cioè che andrà o in un bacino o in un altro bacino idrografico questo è un esempio di bacino e di reticolo idrografico cioè quello del po allora se parlo di bacino dovrò considerare l'area circa 70.000 chilometri quadrati che è questa qui in giallo chiaro delimitata da questa linea giallognola che sarà la linea di sparti acque e se considero il reticolo idrografico devo osservare il po i suoi effluenti tipo l'adda ticino dora il tanaro il taro eccetera con anche gli effluenti secondari e quindi questi sarebbero questo sarebbe il reticolo idrografico questo è uno schema di reticolo idrografico il numero 1 sarebbe il corso d'acqua principale numero 2 gli effluenti di primo grado e quelli principali e poi gli affluenti secondari in questa ecco qua si vede meglio in questa mappa si vedono i bacini idrografici e le linee di spartiacque dell'europa ecco si vede che il bacino più grande è quello del danubio probabilmente e il bacino del po tutto sommato è piccolo rispetto ad altri fiumi ecco in italia poi a parte il bacino del po il secondo dovrebbe essere questo qui quello del tevere vedete che non abbiamo grandi fiumi a parte il po vediamo un po un po più in dettaglio come si forma una foce a estuario oppure una foce a delta e che differenza c'è allora una foce a estuario questa è la foce del fiume senna è una foce che dove il fiume arriva diciamo dritto al mare può essere diciamo una foce un po imbuto nel senso che si allarga un po verso la fine prima di aprirsi il mare come mai questo dipende sempre un po dall'energia del mare quindi delle su dall'energia delle onde o dall'alta la bassa marea dall'escursione di marea e dipende dalla quantità di detriti che il fiume porta qui siamo nel nord europa nord europa mare del nord è un mare discretamente forte il moto ondoso riesce a portare via i detriti che il fiume porta infatti questo colore un po azzurro chiaro sono non sono altro che i detriti che la senna tenderebbe a depositare alla sua foce però il moto ondoso e l'alta bassa marea comunque si portano via questi detriti per cui qui non si formano strutture aggiuntive anzi il mare tende un po a scavare verso l'interno e formare questa struttura a imbuto quindi questa è la foce a estuario la foce a delta invece questa è la delta del danubio in falsi colori il danubio arriva da qua e qui c'è il mare il mar nero il danubio invece diciamo è un fiume che porta una grande quantità di detriti e inoltre il mare il mar nero è un mare abbastanza tranquillo perché non ha particolari escursioni di marea o moti ondosi energici per cui i detriti si depositano nel momento in cui il fiume arriva al mare e si forma una struttura che col tempo tende ad avanzare e in un certo senso a riempire una parte del mar nero per cui si forma una struttura a delta vediamo altri esempi di delta o estuario questo è un estuario di un fiume scozzese il fiume arriva qui da destra e vedete che tende un po ad aprirsi verso la parte finale queste strutture qui che vedete un po ramificate sono dei canali di marea in pratica l'alta e bassa marea fa entrare e uscire l'acqua quotidianamente e forma queste piccole ramificazioni lungo la costa questo è l'estuario del rio delle amazzoni il rio arriva da questo lato il rio delle amazzoni porta una considerevole quantità di detriti però dobbiamo considerare che l'oceano ha molta energia il moto ondoso è importante anche la l'escursione di marea per cui si forma una struttura estuario non si forma un delta infatti vedete che tende un po a rientrare addirittura rispetto alla terraferma il delta più famoso al mondo è il delta del nilo che è questo qui anche qui una foto da satellite in falsi colori qua si vede proprio bene la forma a triangolo ed è per questo che si chiama delta perché è una lettera greca a forma di triangolo e qui si è formato il delta perché il mar mediterraneo è un mare abbastanza tranquillo e in più il nilo è un fiume che porta molti detriti per cui questi detriti tendono a depositarsi alla foce e a formare a riempire in un certo senso lo spazio davanti alla foce e a formare quindi questa struttura che si chiama delta questo è il delta del po anche qui il delta si forma perché il mare abbastanza tranquillo e il po porta abbastanza detriti ecco in questa foto si vede bene si vedono bene diciamo i le scie lasciate dai dei sedimenti quindi queste scie colorate azzurro chiaro verdastro non sono altro che i sedimenti che il fiume porta e che pian piano poi se ne vanno nel mare o comunque vengono sedimentati nella zona antistante per cui andranno a formare il delta ecco vi mostro anche un video di minute earth preso da youtube con licenza creative commons share like che mostra un po le due differenti situazioni che portano alla formazione o di un delta o di un estuario andiamo da vedere allora inizialmente sono uguali però ecco da una parte si forma il delta e dall'altra si forma l'estuario come mai andiamo a vedere ecco il disegno ci fa capire che si tratta diciamo di un conflitto tra i sedimenti portati dal fiume della terraferma e la forza del mare chi vincerà se può essere che il mare riesca sia molto energico riesce ad erodere addirittura la terraferma oppure può essere che sia il terreno il terreno il fiume avanzare però poi cosa succede il sedimenti del fiume tendono a depositarsi e ad avanzare verso il mare e quindi a formare un delta ecco che si forma appunto il delta perché il i sedimenti si depositano sulla foce e il mare non ha l'energia sufficiente per portarli via e quindi si forma un delta ci sono molti delta ecco questi sono i delta colorado mississippi nilo gange yanzè vediamo ora il fiume da un'altra prospettiva se immaginiamo un po di percorrere il fiume dalla zona in cui nasce si forma fino alla foce le sue caratteristiche cambiano allora si dice che il fiume inizialmente ha una fase giovanile che corrisponde un po alla parte iniziale del fiume che in genere la pensiamo una zona montuosa dove c'è una certa pendenza dove il fiume ha un carattere torrentizio cioè sembra un torrente e come tale quindi ha una portata molto variabile può anche andare in secca magari ci sono delle rapide delle cascate e l'acqua è tumultuosa e quindi questa sarebbe la fase giovanile del fiume nella fase di maturità pensiamo al fiume quando raggiunge i fondo valli con una certa portata che è aumentata abbastanza energia però cominciano a sedimentarsi detriti che ha eroso nei rilievi per cui nel fondo valle si formano spesso questi canali intrecciati perché si formano delle isole di ghiaia di detriti e il fiume ci gira intorno e questa sarebbe la fase di maturità la fase di vecchiaia possiamo pensare come la fase in cui il fiume esce dalla zona montuosa scorre in una zona pianeggiante e qui diciamo tendono a formarsi dei meandri i meandri sono le curve più o meno ampie del corso d'acqua che si formano in parte anche perché ci possono essere degli ostacoli ma soprattutto è proprio una caratteristica anche se non ci fossero ostacoli comunque si formerebbero i meandri e perché diciamo questo è dovuto alla sua caratteristiche erosive poi vedremo un disegno che spiega meglio la formazione del meandro e alla fine la vita del fiume termina quando raggiunge la foce e la foce abbiamo visto prima può essere a delta o estuario allora andiamo a vedere qualche immagine questa è l'immagine di un torrente quindi siamo nella fase giovanile di un fiume vedete che l'acqua abbastanza tumultuosa la portata è abbastanza cioè il quanta acqua porta il fiume portata abbastanza piccola e può essere variabile magari d'estate può essere molto ridotta ma in primavera con lo scioglimento delle nevi la portata può aumentare notevolmente ecco questa invece è una una fase di maturità in cui il fiume ha questa caratteristica a canali intrecciati cioè il fiume sedimenta delle barre di sabbia dei cumuli di sabbia di ghiaia e ci gira un po attorno si erpeggia un po intorno a questi cumuli di detriti e questo aspetto si chiama a canali intrecciati ecco qua si vede molto bene questa caratteristica questo è un fiume neozelandese vedete che sono tante ramificazioni dovute appunto a questi sedimenti di detriti che esso stesso deposita e poi nella fase di vecchiaia il fiume ha un unico diciamo un singolo corso d'acqua non ci sono tante ramificazioni però queste formano dei meandri e questi meandri col tempo si evolvono tendono a ingrandirsi e poi possono anche essere saltati nel corso di una piena questo è un fiume a cuba ecco un po questo piccolo disegno che mostra come si forma il meandro inizialmente il fiume può anche essere abbastanza rettilineo poi basta una lieve diciamo flessione del terreno e il fiume comincia questo sarebbe visto dall'alto ecco per capirci e il fiume comincia a scavare più da un lato questa ansa si approfondisce col passare degli anni fino a diventare molto grande e fino a che diciamo i margini di questa ansa si toccano e la prima piena viene tagliata fuori per cui si formerà uno stagno a forma più o meno circolare e il fiume ritorna a essere quasi rettilineo e questa non siamo una dinamica che nel tempo continua e in questo modo il fiume riempie le pianure alluvionali ecco questa una pianura alluvionale del rio negra in argentina se guardate si osservano anse di meandri un po da per tutto vuol dire che il fiume che storicamente nel corso dei millenni un po alla volta riempito questa zona di detriti formando anse di vario tipo e queste anse questi meandri con il tempo si evolvono e vengono tagliati fuori formando degli acquitrini vediamo in questa animazione di minute earth come si forma un'ansa di un fiume quindi vediamo che inizialmente il fiume rettilineo ci possono essere anche la tana di qualche animale però il fiume scava sul fondo magari inizia a scavare di più da un lato per qualche motivo perché il terreno curva leggermente e quindi comincia a scavare di più da un lato dall'altro lato allora c'è meno energia e tenderà il fiume a depositare i sedimenti ecco l'erosione è dovuta soprattutto il movimento di particelle di ghiaia per cui da una parte vengono depositate e dall'altra c'è l'erosione quindi da una parte deposito dall'altra l'erosione questo fa sì che guardando dall'alto c'è un lato dell'ansa del meandro che si approfondisce e lato opposto invece che viene riempito per cui col tempo tende ad aumentare la curvatura si è visto che le dimensioni di questi meandri dipendono dalla larghezza del fiume qui c'è una specie di formula matematica la lunghezza di un meandro è circa sei volte quella del fiume diciamo la cosa un po a che fare con la matematica e ci sono tantissimi fiumi che hanno queste cioè tutti i fiumi hanno nella zona pianeggiante hanno un po questa caratteristica ecco questo mostrerebbe appunto la formula matematica che il diametro il diametro di un del fiume corrisponde poi a circa sei volte la lunghezza del meandro e la cosa a che fare un po coi frattali in matematica per cui il motivo che si ripete lo stesso solo che con proporzioni diverse e quindi con il tempo questi meandri si approfondiscono diventano sempre più grandi e a un certo punto in genere in occasione di una piena praticamente il meandro viene tagliato per cui il fiume ritorna a essere abbastanza rettilineo e il meandro si trasforma in un equitrino in una zona che poi verrà riempita dalla vegetazione dai detriti per cui col tempo scompare però avete visto che dalle foto da satellite le impronte dei meandri si possono ancora vedere andiamo a fare un esempio concreto di un fiume sfruttando l'applicazione google earth proverò a descrivere un po l'andamento del piave quindi nella sua fase giovanile di maturità e di vecchiaia questo è google earth allora qui sono nella parte diciamo dove il fiume si forma si forma in frioli ai piedi di questa montagna che si chiama monte per alba qui sono presenti cioè presente sia una sorgente dove ufficialmente diciamo nasce il piave però chiaramente qui raccoglie anche le acque di ruscellamento della pioggia e le acque di fusione della neve qui non ci sono ghiacciai per cui anche la il torrente nella sua fase giovanile ha sempre una certa portata d'acqua perché è presente proprio una sorgente qui ai piedi del monte per alba inizialmente qui avrà caratteristiche torrentizie quindi non ci sono canali intrecciati perché la portata è piccola è un piccolo torrente poi scende passa per sappada e quindi poi siamo in veneto e scende nella zona del cadore ecco poi il fiume dalle prealpi carni che scende nella zona del cadore e man mano chi scende raccoglie l'acqua dei vari affluenti di piccoli affluenti lungo la vallata del cadore il fiume assume una caratteristica di maturità per cui si vede bene che ha un alveo a canali intrecciati qui siamo nella zona di longarone ponte nelle alpi e poi andiamo nella zona di belluno ecco vedete il fiume ha molte ramificazioni dovute proprio ai suoi sedimenti che deposita sul fondo per cui nella parte terminale della zona diciamo montuosa il fiume è nella sua fase di maturità con un letto a canali intrecciati poi il fiume raggiunge la pianura raggiunge la pianura qui siamo nella zona di monte belluna e qui quando esce comunque dalle montagne ha ancora una caratteristica a canali intrecciati si può vedere anche qui però verso verso la zona di treviso poi diventa diciamo un unico corso d'acqua con un tipico andamento a meandri che è caratteristico diciamo dei fiumi che scorrono nelle zone pianeggianti qua si vedono bene i meandri meandri che sappiamo che cambiano nel tempo e a volte nei terreni si scorgono anche le impronte dei vecchi meandri come per esempio qui c'è un impronta questa qui è sicuramente l'impronta di un meandro adesso qui il terreno molto antropizzato per cui si vedono poco però se guardiamo altri fiumi per esempio anche lungo il Po o lungo altri fiumi importanti si vede questo andamento a meandri e poi il fiume nella sua parte terminale raggiunge il mare la sua foce eccola qui nel mediterraneo diciamo nell'alto adriatico e è una foce a estuario vedete che si allarga leggermente nella parte terminale ecco qui il mare adriatico non è un mare che ha una particolare forza per cui l'estuario è appena accennato e non si forma neanche un delta perché di detriti il fiume Piave ne porta relativamente pochi anche perché lungo il suo corso spesso ci sono attività umane estrative che prelevano acqua prelevano sabbia prelevano ghiaia per cui diciamo sia di acqua sia di detriti non arriva granché poi al mare ecco quindi con il Piave ci siamo fatto un'idea un po di queste tre fasi di fase giovanile di maturità di vecchiaia caratteristiche dei fiumi grazie a tutti